Ad oggi non abbiamo certezza, certo è che siamo sul filo di rasoio rispetto ai numeri che si elaborano. Crescono contagi e ricoveri con una curva che per le terapie intensive registra un'impennata, sale l'indice RT ed il Veneto si avvicina pericolosamente all'1,25 che determina il passaggio in zona rossa. Siamo sul filo del rasoio, dice il presidente Zaia, anche perché il 70% dei tamponi è di variante inglese e la diffusione del virus è molto più aggressiva. Sul fronte delle scuole sono sei distretti passati alla didattica a distanza dalla seconda media in su, ma altri quattro si stanno avvicinando alla chiusura. Abbiamo altri quattro distretti che con questo incremento è verosimile, non sono chiusi da oggi, non saranno chiusi domani, ci sono sempre 48 ore, lo dico perché poi qualcuno potrebbe andare nel panico, però Pieve, Rovigo, Padova, Bacchiglione Piovese e Ovest Veronese sono tutti sopra i 200. E da oggi nella conferenza unificata con il Ministero e le Regioni si è parlato anche del nuovo piano vaccini. I vaccini d'ora in poi li possiamo fare come? Con un criterio. Il criterio qual è? Le fragilità, ve la faccio molto sintetica, dopo se qualcuno vuole vi diamo il testo. Le fragilità, dopodiché si va per fasce di età finalmente. Così evitiamo sempre i soliti ragionamenti perché lui sì e me no e anessi e connessi. Ovviamente in ordine del crescente, cioè si parte dall'alto e si va verso il basso. Dunque, dopo gli over 80 e le persone estremamente vulnerabili, cui si aggiungono disabili e familiari, si procederà a vaccinare le persone dagli 80 anni in giù. Unica deroga prevista è quella dei protocolli per le aziende che saranno individuate dalle Regioni. Ci sarà un contingente di vaccinazioni destinato a dei gruppi dove c'è un assembramento aziendale, ma lo tale che anche lì si attua un piano di sanità pubblica.